Eee scusate un attimino ma si è scollegato proprio malissimo OBS A caso Ok vince dodgeball Senza niente Dodgeball forse dovrei avercile qualcosa 1500 punti in dodgeball No escalation non c'è ancora come mappa L'escalation è quella che hanno fatto il mix di re della colla Ci sono tre anelli nello stesso momento Devi fare punti tenendone due almeno Oppure conquistarli tutti e tre Eh? Farci dentro basta prenderli Eee ti devi stare un attimo dentro per catturarli ti pone della colla e poi Ah ok poi te ne vai Andate tutto bene Diego tanto che non ci sentiamo eh Maledetto BS che si è scollegato a random Perché scopo un po' di merda? Vabbè Eh? 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 Dodgeball Ah dodgeball non c'è un giocatore Ahio ma non c'aveva il giulicecchino Eh dodgeball è team deathmatch praticamente che Tu cd1 uno rientra Infatti adesso sto rientrando Ma E tu dovresti lì già rientrare in teoria breve Giusto? Mh mh E' bella come modalità questa Si Si Diventa un po' lunghezza Può diventare potenzialmente lunghissima si Mh 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 Chi cazzo 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 Se sei un peso morto Ah cazzo Quella è una robusta Allora io sono di fianco a te Con due incendiari in mano Ma dai non l'ho preso Ma dai Ma dove sei fuggito quello spottato è quello col cecchino comunque io faccio il giro da dietro io ne ho due davanti però quindi non so quanto supporto posso dare io sono morto dove sono spottati sono in tre davanti e occhio che hanno il cecchino di nuovo sono in quattro adesso là davanti sono tutti lì ho visto quattro nomi azzurri vedo solo più tre vai via da lì a uno ha preso il nostro cecchino ok ne è uno lì l'altro in fondo alle scale ma l'ho sparato con la faccia in mezzo al mirino ho visto lì doveva resisti tre secondi resisti tre secondi resisti tre secondi ok so spawnato io e sono l'ultimo il cecchino mi ha visto cazzo eh cazzo l'ho mancato secondo colpo 34% gli ho fatto io ho fatto 50 la faccia in da 6 ok meno uno il cecchino è andato il cecchino è sempre lì a terra quindi non l'hanno ancora presa e lo tenevo sott'occhio così non lo prendevano proprio per evitare problemi ok ne manca uno che lo vedo e li spottato voilà scusami le armi fanno eh minchia eh minchia però stavolta ho incecchinato subito è più veloce lui quindi occhio guarda stanno facendo il giro dal nostro spawn eh ne è uno lì dietro davanti due lì davanti luchino uno dei nostri ha già lasciato il gioco ok sto per spawnare sempre uno lì dietro in cima alle scale aia il cecchino l'ha spottato dietro grazie merda mi ha preso il cecchino quella è tua dai sta facendo il giro per andare dall'arco è scesa dalle scale quella che stai puntando sta combattendo contro l'altro eh voglio dare una mano perché c'è uno in due adesso eh resisti due tre secondi ok so spawnato eh madonna il lanciapiatti già alcuni li prendo non bene di più uno li faccio ma merda ha tirato il fumogeno davanti al cecchino quindi non lo vedo più io devi fare un giro alternativo ho un po' tutto in mano però non mi pizzo devo stare a bianco oh sei morto cazzo ok quello doveva essere il cecchino comunque quello che ho ucciso eh vabbè è da solo oh yeah comunque punta qua un po' ovunque eh sì vediamo ci prendiamo un po' di mano un tantissimo Grazie a tutti Guarda che c'è Kino che cerca di sparare da dietro al muro 20% nel bordo? Non ho visto la scia però che ha lasciato E' andato avanti Eh lo so che era più o meno là ma non ho visto Ce n'è uno qua Abbiamo perso Abbiamo perso Di quelli sensibili al dolore Probabile Ok vince Ingorgo Un dodgeball sempre 34 monete E per un niente non ho preso neanche la ricompensa 120 punti E come vedi qua le partite sono molto più veloci A farle Abbiamo 3 contro 5 Fantastico Sei contento? Ok però do riuscire a fare la mia tattica della shock Se non l'avessi tirata di merda Colpa mia non vieni indietro Ho tirato una io Hanno anche il boomshot Ne ha piazzata una di granata E vabbè minchia però sono andato a camparsi dalla nostra boltok Questi bisogna toglierlo il cecchino Col boomshot Cosa preferisci? Oh guarda Possiamo anche fare un gioco con un boomshot Non penso che Ma non voglio le reinforcer E le reinforcer non è male Solo che da lontano non fa il culo Questo mi sarà uno Urto in uscita Temico avvistato E vabbè ce n'è uno dalle granate Uno dalle granate 8% gli ho fatto Sono due adesso Dalle granate Ma dai! Questo neanche gli ho sparato Non ho sentito neanche Vabbè Non ho sentito il boom Boh Ero boh Caduto Come era già? Pompata sale? Pisccio? Com'era? Pompata piscio sì Stiamo giocando bene Che partita dopo? perfetto è andata lunga dovrei averne preso qualcuno forse eh sì ero lì dal cecchino non lo so davanti non è passato e io stavo guardando da altre parti quel cecchino non dietro non va giù non va giù 60% e ce ne erano delle cacchino puntano dalle buttute pareti è un altro tu ne hai ucciso uno io sto facendo 0 0 0 6 con 7 punti si ma anche il mio niente proprio fatto come rovinarsi la media del 1.5 così si non sono andato a prenderlo se ne sta sbattendo a quanto pare allora sai si è tornata pesante molto male che schifo no non voglio vedere sono primo con un uccisione di 5 modi io non voglio vedere io faccio start up non al menu principale farlo tu così dovresti portarmi insieme forse che schifo e sta caricando momento forse un colloquio l'ufficio collagamento speriamo bene adesso a mezzanotte quasi partita crea cioè vedi qua non ci mette veramente niente a trovare le partite probabilmente perché non guarda i gradi non guarda il cazzo probabile anche le mappe le carica velocissime ma tu sei già dentro io sto ancora caricando vedo la mappa adesso si si hai della colla su dig sto seguendo rippling per qualche motivo io sono andato a fare il colloquio si questa partita sarà lo stesso difficile secondo me uh ha scattato un attimo secondo me lo sarà se riesci e ok loro non perdono neanche il tempo da andare là dov'è la seguente? non ho fatto a farmi il 3% in due pochi se non la faccio sono morto black magic occhio quanti copi ti devo tirare? eh cazzo granate figura ma ci c'è che gli ha sparato chi è quel coglione di mondo che gli ha sparato che gli ha fatto girare ok io non ho accisi due ma erano due bot giusto per dire sfiga non ho sparato quanto hard disk ci starebbero in un case sali a vicenda va bene comunque meglio di nulla ma scusa ma quel bocchì è ridicolo e all'interno ma che palle ho sparato vabbè è data seguente piuttosto eh sto correndo ce n'è uno e la cosa può essere di aiuto ha preso un colpo in gola ma è un po' niente eh vabbè eh vabbè erano meglio le pazificate quelle carte eh ma perchè quello c'ha il bilanciamento abilità della mente questo qua a quanto pare no no normalmente non c'è una question di bilanciamento dei ranghi che altro non sicuro di qualsiasi server perché c'è sempre no questo tramite server secondo dovrebbe essere o oh mio dio si effettivamente cioè ma delle cose muti non è ma di volta eh buonanotte questo è raro non abbastanza eh 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 non ci arrivo mai più mi affumico io che se nel ripti ci sta l'arena il ripti è dal primo buona ricerca dell'arena Diego Dio santo provo a fiondarmi dentro ok uno è morto ma non vedo adesso per il fumogeno ok sono dentro oh che granata di merda e se dicono che non c'è allora su internet ci sarà da fidarsi sto zombie per vendetta dopo buona vendetta Diego divertiti c'è 7ms di ping 30mg di band in download e ci saranno anche 30mg ma dai quello lucchino l'avevo già colpito io per il 70% eh no io gli ho fatto 7% con quel colpo non era in faccia però mi erano in la schiena perfetto oh questo bello in testa e hanno il cecchino non sono riuscito a schivare il secondo colpo proprio quello che mi serviva pensavo di metterla un po' più ninja ma ma dai esploro no dai ma dai oh god ok ok no fucking way bisogna fare le classificate oppure ho sempre giocato bene anzi l'unico modo era per giocare se no non giocavi oh ho fatto due colpi nel linguine a uno non hai fatto niente era due sparta ok ma uccidilo gira un fumogeno lì dove c'è il boomshot ma penso che vada oltre no sta cosa, sta partita va male sta partita va veramente male ah in quella di prima invece andava da giro yeah oh tutti il bersaglio questo l'ho staccato da riparo con una bombata e non è morto ah si è staccato da riparo ok ho fatto un po' di casino ah ah boh no adesso sono dal cecchino che cerco di coprirvi e spottarveli quanto possibile minico avvistato arrivano da te no ma neanche col bambino che succede il stronzo che ha cercato di prendermi no ingiocabile 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 per me per me non è proprio un massimo mi sono stato oppure figlio e si gioca qualche ma quanto lontano ma è un pochi migliore ingiocabile ma ce n'è già uno qua davanti verso l'uomo qua Esatto qui Ma da... Un altro dietro, ma che cazzo? C'è qualcuno che arriva dietro di te Dietro di te Oh scusa, ho un lavoro Vedi che si buttano due card Perché... Oh Vantaggio Ma vai giù anche Oh Vai che forse gli ho preso un po' il tempo Ma... Contro boomshot e tutto Sarà ben poco da fare L'ho ucciso e mi hanno tirato giù Corretto Sì Io credo di avergli preso il tempo, forse Fino quando siamo ormi pari Che poi si hanno già Eh cazzo da dietro 98% di danno Cazzo Ok, ho la Nemesi su uno adesso addirittura Tu non spari col cecchino Parcato Ti serve un mezzo Ahia c'è... Dove cazzo era boomshot? Eh? Sto sanguinando troppo Sto sanguinando troppo Eh io ho beccato un attimo una... Un boomshot malefico Che cazzo fai? Sì Tiro un fumogeno sull'entrata principale Così Non abbiamo fermo Lo so Eh eh io ne avevo troppi Ne avevo tre... quattro Eh... auguri Non vuoi ridere? Eh ho guardato Ho cercato di calciare Non neanche pompa Perchè... Ho coccato Ma dai! Se vedi del fuo... Lì c'è boom davanti Usalo Ma che cazzo fanno una campana? Diretti Sto muocciando da neve Il prossimo non si sa ancora Adesso te lo dovrebbe dire Dalle granate Dalle granate Un passo per scapire Un passo per scapire Vale Eh cazzo sono già due dentro l'anello Ci provo Eh sono morto male ma ci provo L'ho interrotto un attimo Ma non serve Diffne non parte ma sistemi un po' Eh? C'è una pisella Non ci credo mai che queste qua sono La spazio Cosa preferisci? Non vedo le mappe Quindi Vincere della colla fondamenta Io non ho votato Ho votato due persone Bene in tutto Quindi sei qualcosa per re della colla Cosa è molto a caso In un minuto Immagino Immagino Diego Sto afflessando la mappa Come una bestia C'è una morta che mi faccia davanti alla Siamo fatta eh? Premi back per mostrarla dovrebbe togliertela No 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 No? Come è che vedi con Un grande buon supporto C'è una morta Bello Polizioni finiti Ecco che cazzo! E questo è andato giù effetto le br certificate ci base che calcione gli ho tirato l'arco è di chi è? ah prendo il dropshot ahia c'è uno da dropshot due da dropshot niente neanche da portare la moda ok grande bot è il momento della vendetta madonna come non muore neanche con questo ah adesso muore ok arco ma ok oh mio dio si io sono nell'anello e mi stavo chiedendo perchè non lo sto catturando questi non sono assolutamente stati non ci credo mai che dici? ma dai come è possibile? oh ho cominciato a catturare l'anello finalmente oh cazzo madonna mi sono caccato un attimo sotto mi sono ritrovato un bot a due passi ecco la granata è un po' visibile te lo devo dire sai volo una piazzata oh ma è un bot ah non stava uno no mi arriva guardatei è proprio noi stavano qualcuno guardatei Assembly eeheb guardatei hai presi tutti? ho preso oltre hanno dato quinto ce l'ho stavo ho preso non ho preso molto not nonsi no L'arrivo è arrivata qua Eh cazzo non l'ho fatto in tempo A Quella è razzita Quella si che è razzita Voilà Signore degli anelli Ok il prossimo dov'è LifeFound? Eh si Cioè Cosa sta giocando Accampare Mi sono andato a prendere dentro a casa E' la metà natta Non ti faceva niente Si dice ma proprio niente Due colpi 89% E' un effetto C'era che è una Un colpo da 8 km Un colpo da 8 km Con mi ha presentato Un colpo da 1 km Un colpo da 9 km Un colpo da 9 km Un colpo da 8 km Un colpo da 9 km Perché va il colpo da 4 km E' una colpo da 5 km E io sinceramente aspetterei il prossimo Non andare Cazzo è il prossimo Ma seriamente Ce n'è già uno dei loro C'era No non era un bot Ok stanno passando dal dropshot E cosa qui è scomparso Eh ce ne sono due nell'anello Tra Sono pronto andiamo Non è altro dietro Eh che palle Che palle Quanti sono in entra? Eh sono in 3 o 3 sicuro Sì ma come cazzo fanno Merdo ho toccato il bordo sopra E di nuovo Ma dai Cazzo Andiamo male Sì ma c'è un po' più di bene Già E hanno anche l'arco No 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ho preso Sempre Sì ma c'è un po' più di bene Eeeh Mi sono ritrovato tutti lì E loro vanno tutti insieme Per quello Solo che noi dovremmo avere E non possiamo avere gruppo da 5 Quanto palla Ok una andata 96% in un colpo Cazzo Non ci credo Non ci credo Non ci credo E' un po' che ti andiamo a mezzaglio! Teo sei portato! Tanto adesso sono tutti dal dropshot in questo momento, adesso sono tutti in modo dentro, la shock neanche c'è. Chio santo. Pishpok! Pishpok, proprio! Gli ho mancati male io, questa volta è stata colpa mia. Pishpok, non me ne frega un cazzo. Almeno però riescono a farlo arrivare a 6 secondi. Ok, non gli basta quello per vincere. Ok, io l'ho provato a prenderlo, non ho uccisi due, ma... che cazzo si è venito avvistando. No! 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 E' sempre mia eh? Bene perchè mi sono cagato sotto Quello doveva morire Ok Mi ha sparato qualcuno Grazie E' solo 2 Uuuurrrr Madonna Occhi sul bersaglio Il tagliastro è un gol Uno in ogni tacco Io ne avevo uccisi 21 Mi sa che sono morto almeno una cinquantina di volte Oh ne ho uno luchino dai Dai Hanno il boom shot Non sono neanche riuscito a spottarlo Eccolo! Però si è suicidato L'ho di un altro uscito E adesso siamo noi due che stiamo giocando praticamente Due botte e un altro No, ne è entrato uno Dai Poi lui ha il tempo di correre avanti Arrivare dal riparo Sì Spicciarmi 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 la coltellaria Noi sono neanche riuscito a schizzare le stacche Mi sa che dopo questa stacco sai? Ciao! Dove è finito Farai anche tu così? Io sono poco dietro di te Bi'ortuni che la cosa ti aiuta ho tirato il fumogeno Non è servito a un c**o nessuno. Boomshot non c'è? Eh, quello però. Quattie? Io non vedo neanche come si muove. Allora, sensibilità 30. Poca storia. Secondo me è quella. Dobbiamo abituarci proprio con la sensibilità 30. Dici? Sì. Esattamente come in Gears 2, 1, 2, 3. Sempre quella. Ok, ho tirato un po' di fumogeni per ostacolare la visuale, ma... Dove cazzo arrivano? Da là! Così! Minchia, mi hai fatto prendere un colpo! Occhio l'arco! Occhio l'arco! Sei nell'anello! No! Un lieto di rocchio! Ok, l'arco è andato giù! È Wattie! Lui... Ok, il Boomshot si è suicidato! Mi è piaciuto quello che sei farmato! Allora, dove? Al seguente spawn! Eh, non ho neanche più colpi dell'Ambra, bastio cazzo! Sono debitore! Ho vinto il tuo bersaglio! Eh, vabbè! Sì, ma dai, ma sono spawnati davanti al pro... È da quella distanza! A questo mare! Se ne ho spottato uno che sta arrivando da te, ma non sono riuscito a fare altro! Purtroppo! Ma è vabbè, sono un cretino! Poche storie! Sono veramente un cretino! Occhio dietro, Lucchino! Eh, vabbè! Attenta, sarai in un collo! Se ne sbatte il culo qualcuno, eh! Ma io non so, cioè... No, no, no! Stai veramente un strano! Io mi affumico in un angolo! Cosa fai tu? Tu sono morto! Che ero fumogeno! Vabbè! Direi che con questa si può finire la serata, sapete? Direi proprio di sì, va! Fai torno al menu? Mi porti anche tu? Sì, non so se conviene fare... No, magari da solo sì, ma... Due, tre! Cazzo! Eh, due! Perché il treno già non puoi! Ah, giusto! Cosa erano veramente... È una roba! Sì, forse questi erano un po' esagerati! Fammi poi vedere ancora un attimo la store! Settecento due monete! 1200. Sfigliati un pacchetto operativo! Esatto. 1200. 1200. 1170. Dimmi cosa droppi, va! Tanto un emblema, skin o qualcosa vi dovresti dropparlo sicuro! Con una verde... Blu. Verde. Blu, verde. Not bad?! Vittoria Ritello, Vittoria Corsa di Armamenti, Danno Contrassegno, Lancer Aereo d'Epoca, Ficchiarri. Lancer Aereo d'Epoca? Sì, è quello con gli denti dello squalo dipinti Vabbè, mi mancano 300 punti Vabbè, diciamo che con stasera è finita così Quindi, grazie per la compagnia a tutti Buonanotte e alla prossima E vediamo di non farci stuprare male su Gears così Già sì E niente, buonanotte a tutti live Ciao ciao